Musica Ad Europa, presso la sala dei convegni del santuario, circondato dall'abbraccio dei monti incappucciati di neve, si è svolta l'iniziativa più importante tra quelle programmate nell'ambito dei festeggiamenti per il cinquantenario della Fondazione del Gruppo Speleologico Biellese, l'Assemblea Ordinaria della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. Presenti il Presidente Generale del Club Alpino Italiano, Umberto Martini, il Consigliere Centrale Referente per la Speleologia, Claudio Malachiti, il Presidente della Sezione CAI di Biella, Daniela Tomati e molti istruttori nazionali. Vivacemente dibattute le principali problematiche della speleologia del Club Alpino Italiano, in prospettiva del progetto che prevede di uniformare tutti i corsi di speleologia a livello nazionale, come anche quelli di alpinismo, sci-alpinismo, escursionismo ed alpinismo giovanile. Assegnato a Bruno Galvan, il premio Marco Ghiglia, in ricordo dello speleologo biellese ed istruttore nazionale, perito tragicamente in un incidente sul lavoro nel 1993. Il riconoscimento, il più importante e prestigioso a livello nazionale, assegnato ogni due anni, dal 1997, ad uno speleologo italiano che si sia distinto in campo speleologico o che abbia anche dato un fondamentale contributo nell'attività didattica della scuola, è particolarmente significativo per i biellesi, perché commemora un caro e preparatissimo amico che troppo presto ha lasciato tuta, corde, discensore e casco.